8.000 tonnellate di alimenti irregolari di varia natura, prodotti ittici, lattiero caseari, carne, prodotti da forno e cereali, bibite e bevande di ignota provenienza, in pessime condizioni igienico-sanitarie o stoccate in ambienti non adeguati, con evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro. Alimenti e bevande che sarebbero finite sulle tavole degli italiani se non fossero stati individuati e sequestrati dai carabinieri per la tutela della salute. Un anno di attività dei NAS comunicato oggi nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale della sicurezza alimentare. Nel corso dei controlli, circa 27.000 ispezioni, sono state accertate 16.118 violazioni alle normative nazionali o comunitarie che disciplinano l'igiene alla sicurezza e gli alimenti. Arrestati tre operatori del settore alimentare, due veterinari addetti ai controlli della filiera delle carni e lattiero casearia per corruzione e abuso d'ufficio, un titolare di un caseificio per furto di energia elettrica. In particolare, nelle ultime settimane, il Comando Carabinieri per la tutela della salute ha eseguito una campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale. In questo settore, i carabinieri del NAS hanno effettuato circa 700 ispezioni che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 329 strutture, quindi il 50% circa degli obiettivi controllati, segnalate l'autorità giudiziaria e sanitaria, oltre 300 operatori di settore e contestate 540 sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 500 mila euro. Sono stati rinvenuti alimenti con data di scadenza superata, artatamente cancellata e successivamente modificata, in modo da procrastinarne la validità, scoperte 25 tonnellate di carni in pessimo stato di conservazione e in presenza di escrementi di roditori, nonché altri prodotti di origine extracomunitaria, completamente ricoperti da liquido congelato, percolato dal soffitto a causa di malfunzionamento e l'impianto di refrigerazione.